Noi che eravamo e che non stiamo niente ormai, io con le mie fragilità, e ti cercavo e trovo invece c'è l'inza. Non so se è una modella o una cantante, cioè che cosa, insomma, sei di tutti i violari. Ciao, ciao a tutti i cantanti, dai. Anche cantante, ma potresti vedere anche la modella, un'altra, insomma, avete visto quest'anno proprio di amici. Esattamente, sì. Bella esprinta, bellissima, bellissima. Mi sta dando tantissime soddisfazioni, sono veramente contenta. Sì, ho avuto grandi soddisfazioni, ecco il disco nuovo, quindi sono molto soddisfatta. Non so mai, finora e mai, mai, mai. Sei turissimo con me. Fate tante tournée in giro per l'Italia, ti è cambiata veramente la vita. Sì, è cambiata la vita. Solo oggi spegniamola la Sardegna, sia io che Martina, perché abbiamo avuto la tappa del sur, la mandalena ieri sera, quindi insomma, un po' con la nave, un po' con l'aereo, è tutto qua, ci stiamo girando tanto, è bellissimo, anche perché stiamo girando per, sto girando per quello che mi piace fare, e quindi questa cosa sia importante. Sì, ho avuto grandi soddisfazioni, anche perché stiamo girando per, sto 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 girando per. Il tuo amico che fa, il vino all'anima.